Pazzo a voi cari amici, cari fratelli e sorelle, ascoltiamo oggi un Vangelo strano, duro e pure Vangelo, lieta notizia, preso dal capitolo 13 dall'Evangelista Luca. Dal Vangelo secondo Luca In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli il fatto di quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva fatto scorrere insieme a quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro, credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, io vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. O quelle 18 persone sulle quali crollò la torre di Silo e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, io vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. Diceva anche questa parabola, un tale aveva piantato un albero di fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse al vignaiolo, ecco sono tre anni che vengo a cercare frutti su quell'albero, ma non ne trovo. Taglialo dunque, perché deve sfruttare il terreno? Ma quello gli rispose, padrone, lascialo ancora quest'anno, finché gli avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti per l'avvenire, se no lo taglierai. Parola del Signore. Alcuni riferiscono a Gesù due fatti di cronaca nera, fanno sempre tanto scalpore. Uno è un omicidio efferato, un atto di violenza che Pilato fa verso alcuni galilei, che erano andati a fare dei sacrifici. Israele è sempre stato un popolo caldo, con tantissime tensioni e Pilato deve far sentire il potere romano. E poi un altro fatto di cronaca è un incidente sul lavoro di questa torre che stavano costruendo. Questi tali riportano a Gesù queste questioni, forse aspettandosi una risposta filosofica. Perché è avvenuto questo? Vedi Gesù, questo è avvenuto perché queste persone erano più peccatrici di noi e il Signore le ha punite. Ed è stranissima la risposta che Gesù dà che ci spiazza ed è per noi bella notizia. Perché Gesù ad un certo punto dice se non vi inconvertite pererete tutti allo stesso modo, per due volte dice questo. Cioè Gesù non rimane sul piano filosofico, astratto, teorico, ma ci riporta la questione profonda. Convertirsi o meno è questione di vita o di morte? Questo tempo che abbiamo è un'occasione per convertirsi. Quante persone che passano la vita ad interrogare la vita. Questo Vangelo ti dice smettere, smettila di interrogare la vita, ma lasciati interrogare dalla vita. E se i fatti, anche quelli tratici, anche quelli trammatici, fossero una chiamata di Dio per chiederci frutti, perché poi la parabola che Gesù racconta parla proprio di frutti che siamo chiamati a portare. Perché questo è il nostro Dio, non è uno che vuole il male. Dio non gode della rovina nostra, ma della nostra conversione. È il Dio della vita, vuole la nostra vita e che sia una vita piena. Come devo rispondere ai fatti drammatici della vita? Come devo rispondere a questo covid che ci sta assillando, scombinando i piani, mettendoci in grande difficoltà, accusando Dio, accusando gli altri, accusando i cinesi? Oppure leggere con sapienza tutto questo e dire Signore a questo fatto rispondiamo con sapienza. Anche questa roba qua, che non abbiamo cercato, desidero rispondere con amore, con la conversione, desidero che questa pandemia mi converti, mi apra la carità, alla compassione verso i fratelli. Siamo tutti sulla stessa barca, mi aiuti a togliere ciò che è superfluo, mi aiuti a riportarmi all'essenziale. Anche questo tu, Signore, lo sai trasformare in un appello alla mia conversione personale. Allora, benediciamo il Signore per questa parola dura, ma che in realtà ci aiuta nel nostro cammino di profonda conversione.